Incontriamo oggi il senatore del PD Bruno Astor, volto noto per la nostra trasmissione. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Prima domanda, ovviamente una domanda che viene da sé, quello che sta succedendo a livello nazionale nel PD non si nasconde, c'è una crisi evidente, ma ce lo dica lei, cosa succede all'interno di questo Partito Democratico? Io crisi non parlerei di crisi, perché anche i sondaggi ieri sera pubblicati alla Sette danno il PD al 37%, abbiamo votato al 41%, io direi che c'è bisogno di lealtà, c'è l'idea che c'è un partito, c'è stato un congresso, ci sarà nel 2017 l'altro congresso e l'idea che si possa stare in un partito e per esempio faccio un nome noto, Civati, non ha mai votato la fiducia a nessun governo, né a quello Letta, né a quello Renzi, mi sembra proprio estemporanea la cosa, ho visto anche con interesse la riunione che sabato hanno fatto le cosiddette minoranze del PD, una cosa è cercare il dialogo, poi casomai ne parleremo per esempio della legge elettorale, una cosa è cercare il dialogo, una cosa è pretendere che ci sia ascolto, una cosa è chiedere e pretendere che ci sia confronto sia negli organismi dirigenti che nei gruppi parlamentari, altra cosa è dire che qualunque confronto ci sarà, qualunque dialogo ci può essere, qualunque votazione ci può essere perché poi in democrazia si vota e si decide, io faccio come mi pare, questo è deleterio sia perché siamo l'unico partito strutturato e forte a livello nazionale che ha oggi in questo momento la guida del governo e la guida delle massime istituzioni e quindi abbiamo una responsabilità doppia rispetto agli altri, ma per me uomo dei territori è anche deleterio come immagine, come esempio che si dà ai territori, perché faccio l'esempio se Rosi Bindi o Bersani dicono qualunque cosa sarà, io la legge elettorale non la voto, come facciamo poi nei territori, per esempio facciamo le primarie a Velletri o per esempio le abbiamo fatte a Marino e a Frescati a far sì che chi non le vince rispetti poi dopo gli impegni presi? Allora c'è anche un problema non solo di responsabilità nazionale, ma di esempio che si dà ai territori, perché come si dice poi dopo il pesce odoro puzza dalla capa e quindi se a livello nazionale c'è l'idea che si può dibattere e fare come ci pare, a livello locale poi ne traggono le conseguenze. Lei ha parlato di sondaggi, però spesso i sondaggi mi permetta Senatore sono ingannevoli perché abbiamo di fronte, lei dice non c'è una crisi, ma al di là di quel 37% è evidente, appunto lei ha parlato di un incontro che c'è stato sabato, viene accusato addirittura il Premier di essere un dittatore e non soltanto dalle opposizioni, ma il PD si sta forse scindendo in due anime che poi sono quelli che lo hanno sempre composto? Assolutamente no, mi pare che oggi c'è un'intervista del capogruppo Roberto Speranza alla Camera che dice basta considerare Renzi un intruso nel Partito Democratico, si deve stare tutti Uniti, ma anche Bersani, ma anche la CGL dice a questa iniziativa di Landini che è sbagliata, non credo che ci sia nessuna scissione, ci può essere qualche elemento singolo che magari può essere attratto da varie situazioni perché magari la responsabilità del governo è troppo grande per chi vuole campare solo di utopia, però non credo che ci sia nessuna possibilità di scissione, è anche vero che i sondaggi lasciano il tempo che trovano, ma le elezioni fatte e quanto 1% lo danno al Partito Democratico, fino ad oggi tutte le elezioni regionali che abbiamo fatto e parlo anche di regioni che hanno governato prima il centrodestra come la Calabria o la Sardegna, hanno visto l'affermazione del centrosinistra, siamo di fronte, abbiamo davanti una tornata elettorale molto importante che è quella del 31 maggio o 7 giugno, non ho ancora ben capito, il 2015, dove voteranno pochi comuni, in provincia di Roma Albano, Zagarolo, Colleferro, Palombara, ma voteranno molte regioni, a cominciare dalle regioni rosse per eccellenza la Toscana, l'Emilia, l'Umbria, le Marche, ma anche regioni importantissime come il Veneto e la Campania, quindi abbiamo una tornata elettorale molto importante che la affrontiamo fino ad oggi avendo vinto e stravinto tutte le elezioni, ma con la consapevolezza che oggi si sta facendo ciò che si dice, questa è una cosa che forse dà fastidio, naturalmente tutto può essere migliorato, naturalmente, io per esempio su alcuni aspetti della legge elettorale sono critico, può essere tutto migliorato, ma da questo a dire che si sta facendo male, non si sta facendo niente, ce ne corre. Arrivando proprio alla legge elettorale, le criticità sono tante, anche perché si prometteva una grande democrazia, si prometteva di votare, ai cittadini si prometteva che avrebbero potuto votare e le persone che poi le avrebbero rappresentate, ma in realtà sembra ancora peggio del Porcellum? No, perché il Porcellum aveva tutti bloccati, sulle schede aveva solo i simboli dei partiti, l'Italicum punto 1, quello approvato dalla Camera in prima lettura, addirittura avrebbe ancora quello l'accordo del Nazareno, tutti i listini bloccati e questo quindi non è vero, noi avremo, se viene approvata la Camera, la riforma che abbiamo approvato al Senato, abbiamo solo i capolista bloccati, ma riconoscibili, scritti nome e cognome sulla lista, faccio l'esempio, un collegio di 500 mila elettori è il collegio sostanzialmente dell'ASD, dell'RMH dei Castelli, quindi è quello che va da Colonna fino a Nettuno, tu in quel collegio, che sono 500 mila abitanti, avrai il capolista dei partiti bloccati, ma con scritto nome e cognome, cioè o Bruno Astorre, o Ivano Selli, o Matteo Orfini, o Matteo Renzi, chiunque sia, sarà scritto a differenza del Porcellum che tu hai solo il simbolo di partito e poi ne potrai eleggere altri due con la doppia preferenza di genere, quindi nel Porcellum e nell'Italicum.1, cioè quello approvato in prima versione alla Camera, figlio del patto del Nazareno, erano tutti bloccati, oggi invece hai solo il listino bloccato e poi come non dire un'altra cosa che è veramente importante, adesso avremo il premio di maggioranza al partito che vince, cioè con il doppio turno, ha ragione oggi Matteo Renzi, lo ridice un'altra volta, l'ha detto ieri alla LUIS, a una conferenza che ha fatto i ragazzi della LUIS, ha detto la legge elettorale italiana ci verrà accopiata da tutti i paesi europei, è vero, perché in un sistema tripolare, qual è quello italiano, cioè con il PD, la PDL e la Lega, che è poi il sistema tripolare che si va affermando in tutti i paesi d'Europa, perché se voi guardate le elezioni della Francia abbiamo l'OMP, la gauche e le penne, se guardate la Spagna avremo Podemos, i socialisti e il Partito Popolare di Mariano Racioi, mi pare che in tutta Europa si va affermando un sistema tripolare, allora col sistema tripolare l'unico modo per avere una maggioranza certa per 5 anni è il doppio turno, quindi con l'Italicum avremo il doppio turno, il premio di maggioranza dal partito che vince e la gran parte dei deputati, cioè su un premio di maggioranza di 340, 240 eletti dal popolo e 100 indicati dai partiti ma scritti nome e cognome sulla scheda elettorale. Senatore, arriviamo ai nostri giorni, come giudica le dimissioni di Lupi e l'atteggiamento di Renzi nei confronti dei sottosegretari? L'atteggiamento di Renzi nei confronti dei sottosegretari è coerente sin dal primo giorno, Renzi ha sempre detto e l'ha ridetto anche l'altro giorno, non sono gli avvisi di garanzia che scrivono il governo, il governo lo nomina il Presidente della Repubblica su proposte del Presidente del Consiglio, quindi non possiamo ritornare agli anni 92-93 in cui gli avvisi di garanzia facevano dimettere o meno Ministri e sottosegretari, questo l'ha detto ma non riguarda soltanto il Partito Democratico, l'ha detto sin dall'inizio della formazione del governo, poi c'è il problema di opportunità politica e faccio l'esempio, la Barraccio che attualmente è sottosegretario alla cultura non è stata candidata Presidente della Regione Sardegna, nonostante avesse vinto le primarie, perché c'era un problema di opportunità politica, allora in questo caso credo che nessuna vicenda Lupi non abbia pesato la giustizia, peraltro ha ragionissimo Bersani e chi dice che questa vicenda delle intercettazioni deve essere regolamentata, anche se poi dico sia Berlusconi che Bersani che hanno governato in questi 20 anni perché non l'hanno regolamentata e deve essere regolamentata soprattutto la pubblicazione sui giornali di vicende che non attengono le vicende giudiziarie, ma proprio l'esempio della Barraccio mi porta a dire che alcune volte ci sono delle considerazioni di natura politica che hanno fatto sì che per esempio la Barraccio non fosse candidata in Sardegna come Presidente della Regione, ma per quanto riguarda il Governo, per quanto riguarda altri livelli, comunque la regola che non sono gli avvisi di garanzia che fanno il Governo, mi pare che la garanzia ha detto chiaro e tondo. Senatore, torniamo a casa nostra, un suo giudizio sull'andamento della politica nel Lazio, quindi parliamo della Regione, parliamo del Comune, lei è una persona che ha sempre seguito la politica territoriale del nostro territorio laziale, come giudica l'andazzo della Regione a Lazio? Non si può non nascondere che Nicola Zingretti sta facendo un grandissimo lavoro, soprattutto sul campo del risanamento e della sanità, devo dire in particolare ben affiancato dal Consiglio regionale, da un Assessore al bilancio che è Alessandra Sartore molto competente, se è vero ciò che ci viene spiegato in sede pubblica che in sede privata, molto probabilmente quest'anno riusciamo a uscire dal commissariamento della sanità, questo naturalmente potrebbe voler dire finalmente riappropriarci nel Lazio della sanità, perché ricordo che dal 2006-2007 quando con Marrazzo chiedemmo il commissariamento per i 10 miliardi di Euro che avevamo ereditato dalla Giunta a Storace, che la sanità in realtà è in mano al Ministero dell'Economia, il governo della sanità che nomina volta per volta sub i commissari che fanno il bello del cattivo tempo. Se riusciamo, nonostante i tagli alle regioni, perché anche questo governo si è contraddistinto come i governi precedenti in tagli selvaggi agli enti locali e in particolare alle regioni, se riusciamo ad uscire dal commissariamento alla sanità e quindi riappropriarci della politica sanitaria, riusciamo a dare un po' di respiro, perché in realtà è chiaro che dovendo uscire fuori da questa vicenda sanitaria sono due anni che risorse, energie, impegno sono soprattutto legate al risanamento della sanità e quindi soffrono le altri assessorati, soffrono le altre politiche, però per esempio per quanto riguarda la politica dei fondi europei, come non sottolineare che sono stati spesi tutti i fondi europei impegnati e che nella programmazione 2014-2020 siamo la prima regione che si interfaccia con l'Europa e che saremo l'unica regione ad avere a Expo di Milano per tutto l'anno uno stand nostro e proprio, quindi ci sono assolutamente lati positivi. Penso che se riusciamo a uscire veramente dal commissariamento sulla sanità, penso che ci sarà una luce positiva rispetto a tutti gli altri settori. Siamo insalto in Campidogno, che cosa succede? Si riuscirà ad approvare il bilancio? Si, il bilancio credo, ho parlato proprio adesso con il Presidente della Costituzione del bilancio e mi diceva che venerdì notte dovrebbe essere approvato il bilancio, il tema è un po' il rapporto tra il Campidogno dei territori, il Campidogno delle forze politiche, l'idea che per governare soprattutto una città come Roma, innanzitutto bisogna amarla e poi bisogna occuparsi di tutti gli aspetti, in particolare a partire dalle periferie, va bene occuparsi dei diritti civili che naturalmente sono molto importanti e credo che soprattutto a livello nazionale è ora che ci diamo una regolamentata, noi siamo l'unica nazione al mondo che due persone se si vogliono bene non hanno una regolamentazione delle unioni civili, penso che sia assolutamente retrograda questa cosa, quindi va bene occuparsi dei diritti civili, però ci sono tante periferie, tante realtà che aspettano una risposta, soprattutto per una attenzione ordinaria, perché penso che una buona amministrazione soprattutto deve fare malutenzione del manto stradale, illuminazione, raccolta dei rifiuti, quella gestione pulita e ordinaria della città che è condizione necessaria, naturalmente non sufficiente, perché venga giudicata bene l'amministrazione, quindi dobbiamo tutti aiutare sia il sindaco che l'amministrazione perché in questi tre anni che mancano al fine mandato venga soprattutto fatta buona amministrazione per la città. Lei è sempre sfuggito al problema casa, come lo giudica oggi dall'alto del suo scannò in Parlamento, cioè al Senato e quello che sta avvenendo a Roma con gli emigranti? Beh, innanzitutto questa cosa dell'alto e il basso la contesto, perché secondo me ero incisivamente, per me una qualifica alta e bassa è relativa all'incisività che si ha nel miglioramento della qualità della vita delle persone e da assessore regionale ero molto più incisivo rispetto a un deputato o a un senatore, questo naturalmente poi la gente lo capisce di meno, perché naturalmente il titolo di senatore è molto più altisonante che assessore regionale, ma l'assessore regionale può fare molto di più per migliorare la qualità della vita delle persone, perché ripeto, politica è organizzazione del consenso per migliorare la qualità della vita delle persone. Io in coscienza, anche sul problema della casa, dove voi sapete che non ero particolarmente appassionato, però sulla casa, i lavori pubblici, il lavoro che ho fatto, io vado spesso in tante parti del Lazio che vedo, mi fanno vedere i sindaci amministratori, le cose che abbiamo fatto durante la giunta a Marrazzo, quindi sono molto soddisfatto. Credo che il problema degli immigrati o il problema della casa non è soltanto un problema romano, il problema romano naturalmente poi amplifica questo problema, perché siamo nel comune ad alta densità abitativa, dove si scaricano tutti i problemi, penso che anche lì vada affrontata con pragmatismo e serietà, non con l'ideologia, l'idea che finalmente andrebbe messa un po' di ordine rispettando la legalità e rispettando le graduatorie, non facendosi prendere il polso dalle emergenze di turno, perché se il problema della casa strutturalmente, come il problema dei lavori pubblici, se non viene affrontato in maniera strutturale e organica, facendosi prendere dalle emergenze di continuo, siamo in un'emergenza continua, in una sanatoria continua e quindi credo che non si affronta in profondità. L'insegnatore è di Colonna, dove c'è il vino buono. Di questo non lo cancelliamo dall'intervista? Assolutamente, assolutamente. Un piccolo spot per il vino dei castelli? Sì, se ne sta occupando anche in questi giorni l'Europa, l'assensurato, all'agricoltura, quindi sarebbe assurdo chiedere all'oste se il vino è buono e dà un suo pensiero sul marino. Ma che c'entra? Sta a parlare del vino dei castelli? Ma sul marino come città? Sì, certo. O marino come sindaco? Sul marino come sindaco. Una bravissima persona. Ho detto che non si può chiedere all'oste se il vino è buono. Io credo che se il sindaco marino, che tra l'altro oggi ha anche un'altra responsabilità, che voi non l'avete detto, ha anche la responsabilità di guidare la città metropolitana. Adesso lo affrontiamo. Il giubileo. Il giubileo, su quello io penso che sarà un giubileo molto diverso dal giubileo del 2000, questo sarà soprattutto un giubileo di preghiera, non sarà il giubileo comunque del 2000 perché fu preparato in un altro modo, perché Papa Voetila non era Papa Francesco, quindi per tanti motivi. Credo che vada soprattutto preparata l'accoglienza più che quanto riguarda le strutture. Penso che il sindaco marino, che è persona competente e generosa, se riesce ad avere più osmosi, più gioco di squadra, a farsi aiutare dalla città o a farsi aiutare da quelle energie positive che ci sono nella città, nelle forze politiche, penso che possa svolgere in maniera ancora più ottimale il lavoro che sta svolgendo. Lei ha toccato un argomento, se si fa aiutare, ma infatti è proprio questa scollatura che esiste. Un po' naturalmente sta anche nel carattere della persona, ma certo che le vicende come mafia capitale non lo aiutano a far sì che si fidi. Sin dall'inizio, le vicende di Roma come voi ben sapete le guardo un po' esternamente, avete ricordato le mie origini della provincia di Roma, Castellane, le guardo un po' dalla finestra le vicende di Roma, anche se adesso con il fatto della città metropolitana ci toccano anche direttamente, perché il sindaco di Roma guida per legge anche la provincia di Roma. Però l'impressione che ho avuto io è stata di una persona che ha avuto tantissima notorietà, tantissimo consenso, c'è un dato che vorrei che soprattutto una televisione attenta come la vostra sottolinei. Vi ricordo che due anni fa ci furono due persone completamente sconosciute al pubblico, che però si chiamavano Marino tutte e due, una Franco Marino e una stella Marino, che per la prima volta, avendo il cognome uguale al sindaco, furono un boom di preferenze, furono i primi eletti nel PD e nella lista civica. Per dire che cosa? Che in quel momento c'era un grande afflato tra la città e una figura innovativa come Ignazio Marino. Sin dall'inizio c'è stata diffidenza nella città, dalla città nei confronti suoi e anche un pochino sembrava da parte sua e del suo entourage, che spesso viene pure da fuori Roma nei confronti della città. Naturalmente, ripeto, cose come mafia capitale, anche se poi anche lì, ripeto quello che ha detto Matteo Renzi, aspettiamo i processi, aspettiamo che vengano fatti i processi e quindi vengano definite bene le colpe dove ci sono, non aiutano certo il sindaco a fidarsi della città e a fidarsi delle forze politiche. Rapporti come quello di Barca sul PD romano naturalmente non aiutano il sindaco Marino a fidarsi del PD, io invece credo che il PD romano sia un grande partito, è un partito che ha superato il 40%, che ci aiuta sempre a vincere i regionali, perché ricordo che sia su Marrazzo, sia su Labbonino addirittura e sia su Zingaretti, il centro-sinistra e il PD romano sono stati assolutamente decisivi. Io quindi penso che non sia tutto da buttare, ci sono alcune sacche di resistenza all'innovazione che vanno naturalmente combattute, però penso che se ci si fidiamo o se si fidano di più tra il sindaco e la città, tra il sindaco e il partito possiamo fare buone cose. Chi parla dei scontri proprio nel PD romano, per esempio non so la defenestrazione di Lionello Cosentino, segretario romano. Lionello Cosentino è una delle persone più capaci, credibili e onesti che abbia mai conosciuto, non credo che sia stata una defenestrazione, credo che lui si era dato un compito quando lo leggemmo segretario romano, quando fu letto segretario romano che era quello di ricollegare maggiormente il sindaco al partito, questo purtroppo spesso non per colpa sua, perché Lionello è una persona che ci ha messo, può avere dei difetti naturalmente, che naturalmente attengono i lati caratteriali più che altro all'origine napoletana di Lionello, per quanto riguarda magari una costanza di impegno, però per quanto riguarda capacità, competenza e onestà sono al di sopra di ogni dubbio e di ogni interrogativo. Penso che Lionello poi dopo, quando c'è stato il cambio del commissamento, non sia stata una defenestrazione, ma sia stata la necessità del Partito Nazionale di mettere le mani sul PD romano che sembrava, da quello che riguardava le intercettazioni e le cose uscite, in notevoli difficoltà. Ricordo che poi peraltro sulla scia di Marino tutti i municipi di Roma, tutti, anche il famoso ex ventesimo, ma non mi vergogno a dire anche il sindaco di Fiumicino, perché poi alla fine Fiumicino è molto dipendente da quello che succede a Roma, sono andati in scia con Marino e quindi il centrosinistra e il PD in particolare hanno conquistato tutti i municipi, ivi compreso il sindaco di Fiumicino. E' chiaro che la responsabilità di questo governo poi c'è tante volte e non corrisponde alla qualità del lavoro svolto. E di Ossia che dici? Non ho conoscenza, ho letto che è stato subito commissariato, ho un senatore di grande esperienza che conosco bene, che è Stefano Esposito. Ho visto le vicende relativamente alla dimissione del Presidente Tassone, spero che le persone chiamate a poterlo affiancare anche di notevole qualità accettino e che si possa andare avanti con l'aggiunta d'Ossia. Senatore, una pagina più triste e sotto l'occhio del ciclone potremmo dire il rapporto tra la politica e la magistratura. Guarda Renzi ha le idee chiare su questo, devo dire che quello che ha fatto Renzi con i rapporti con la magistratura, ma già il fatto di ieri, quando lui era la Luisa e dice che non sono le avvisicanze che scrivono il governo, mi pare che per la prima volta è stata disciplinata come ci chiedeva l'Europa peraltro, la responsabilità città dei magistrati che non sarà diretta, sarà indiretta, è intervenuto pure sul periodo di lavoro della magistratura. Penso che quando la politica è debole la magistratura deborda, ma non è tanto però la magistratura quanto l'uso che i mass media, a cui parlo di corda in case all'impiccato, fanno della magistratura. Le faccio un esempio, sono stato indagato come Vicepresidente del Consiglio regionale per la vicenda del Secretario Generale, io e tutto l'ufficio di Presidenza, c'era Isabella Rauti, Mario Abruzzese, quando siamo stati indagati nel 2012, ci hanno aperto i Tg nazionali, ci hanno aperto tutte le televisioni nazionali, ci hanno aperto tutti i giornali nazionali in prima pagina, quando siamo stati prosciolti su richiesta del Pubblico Ministero per non aver commesso il fatto, mi sono dovuto raccomandare alle redazioni romane dei giornali per avere un trafiletto in ottava pagina, quindi penso che su questo ci sia anche molta responsabilità di mass media e dei giornalisti, che naturalmente è chiaro, vendono di più dicendo che Astorre è un ladro, piuttosto che dire che Astorre è stato indagato e poi prosciolto, non frega niente a nessuno, non si solletica quegli animal spirits che stanno poi dentro tutti noi che vorrebbero vedere sempre il sangue, però se anche i mass media aiutano a fare il proprio dovere, a dire le cose quando ci sono, ma anche dire quando le cose sono risolte in una determinata maniera, per esempio la mia intenzione è scrivere al Tempo, il giornale del Tempo, che è da tanto tempo che sta facendo una campagna su noi ex consigliere regionale del PD per l'uso dei fondi e spesso ci mette con tutte le nostre foto in prima pagina, adesso ci ha messo anche sulla vicenda di sottosegretario del Ministro, al dettore del Tempo che conosco peraltro apprezzo, vorrei mandargli una lettera e dirgli se sarò prosciolto, se saremo prosciolti, ci dai la stessa rilevanza di come hai dato in questi 10 numeri del Tempo mettendo sempre la mia foto sul giornale? Questo penso ci sia qualche dubbio, nel caso che fossimo prosciolto, ci sarà in 25esima pagina con una riga, quindi il rapporto giustizia politica, io lo metterei a 3, il rapporto giustizia, mass media, giornalisti e politica, ognuno dovrebbe fare la sua parte e la giustizia si dovrebbe sentire la magistratura parte del potere dello Stato, non un contropotere dello Stato. Certo, Senatore, sono perfettamente d'accordo con lei sull'atteggiamento di alcuni giornali, ma come lei sa bene il gossip paga molto di più in termini di vendita e di audience. Ma non pensa che questo dia adido anche a cattivi pensieri la presenza di molti magistrati nella politica? Magistrati, ma anche forze dell'ordine, questo sì, anche avvocati, la Commissione di Giustizia del Senato, io sono andato una volta a fare una sostituzione e ho detto al Presidente Zanta non ci andrò più in vita mia, è tutta colonizzata da avvocati e da magistrati. L'idea che un magistrato, io penso che sia liberissimo di entrare in politica un magistrato, ma che ci sia l'entrata e l'uscita di un magistrato dalla politica al ritorno, penso che sia una delle cose a cui va messo ordine, perché penso che il magistrato sia libero come tutti gli altri, ma l'idea che poi possa ritornare a fare la magistratura, lede un po' quella visione che noi abbiamo di imparzialità della magistratura che non deve mai avvenire meno, normalmente secondo me riguarda anche altre situazioni, per esempio i carabinieri, per me l'arma dei carabinieri è una delle cose più sacre che ci sono e l'idea che in alcuni territori alcune volte i maresciali dei carabinieri si candidano, poi ritornano a fare i maresciali dei carabinieri, questa è un'altra cosa che mi dà molto fastidio, però giustamente il condannante Gianella Arma mi ha detto fate le leggi per evitare questo. Anche Gianella di Corpo d'Armata che si danno alla politica, Senatore la ringrazio per la sua sincerità e la sua solita schiettezza nelle sue affermazioni. Grazie a voi e buon lavoro.